Loro sono la trasmissione della storia ai nostri figli e quindi sono coloro che hanno forse più pazienza dei genitori nel raccontare le cose e nello spiegare forse come è il mondo e come potrebbe diventare il mondo. Quindi grazie a tutti i nonni, grazie ai nonni di mio figlio per tutto quello che fanno e quindi insomma festeggiate in serenità.